Ciao, il video di oggi sarà un po' diverso dal solito, è anche un po' mozzo perché sto tenendo il cellulare con la mano sinistra e in questo momento mi trovo in un piccolo appartamento a Marzocca perché in questi giorni c'è un festival di rock and roll molto importante a Senigallia, si chiama Summer Jamboree, magari qualcuno di voi lo conosce. Oggi è il terzo giorno che sto qui, dato che gli alloggi costavano troppo a Senigallia ho prevedo optare per un appartamento in un paesino vicino e stando qui mi sono accorta che in pratica questa signora che ha questo appartamento ha deciso di dividere una porzione della villetta e usarla come bed and breakfast. Ma ha lasciato in questa casa molti oggetti e guardandomi attorno ho pensato che potesse essere interessante fare un vita smr. Qua davanti abbiamo credo una specie di scacchiera, non so, e trovo molto carini tutti questi pezzi, credo siano tagliati a mano. Poi stavo notando che non ci sono due colori ben netti per cui non sono sicura se è fatto per giocare in due perché questo è chiaro, questo è scuro ma ad esempio questo sembra un po' una piedi mezzo. Non so esattamente di cosa siano fatti, sembra qualche tipo di pietra. Poi qui sulla destra abbiamo credo dei portagioie. Vediamo se c'è qualcosa dentro, ma non sono molto antichi. Un po' la vita dentro. Ci sono solo tre pietre incastonate, un po' impolverate. E' ancora una mano un po' difficile averlo. Vediamo questo. Sono tutti uguali. Poi qui ci sono altre statuette. Si ricordano un po' queste qui. Poi la signora è molto carina. Mi ha detto di essere un'ex insegnante di... Cos'era, cos'era? Di stenografia, ecco. E mi ha detto di aver piaciuto molto con il marito e di essere stata anche in Cina. Infatti poi vi voglio far vedere altri oggetti che chiaramente sembra aver portato da lì. Questi sembrano per esempio dal Medio Oriente o della Turchia. Una volta a lì c'è una mia compagna di classe che mi ha riportato qualcosa di simile della Turchia. Poi qui ci sono delle piantine, una piantina che in verità non è una pianta grassa. Questa è una pianta grassa. Questo è un po' di meno reggito, forse. Questo è un po' di meno. Questo è un po' di meno. Vediamo questo contenitore all'angolo. prima cosa si è fatto in zucchero. Sì, proprio tu penso che sia un... Eh sì, proprio in zucchero. Vediamo cosa c'è dentro. le vecchie lire 10 lire un gettone una florida anche le tacchetti vecchissime 50 lire quelle piccole bene, a casa ho ho ottenuto le tante monete e qualche banca moda vecchia le 500 lire poi 200 lire un po' sporche 10 lire 10 lire un gioco molto pesante che c'è scritto sopra G R ma non è molto chiaro è veramente pesante piccolo crociviso normalmente era una catenina c'era una catenina attaccata credo e tante altre monete non so se è proprio una moneta non c'è scritto nessun numero non so se è così irei un dinaro ok, adesso devi chiuderlo poi vediamo oh, scusate allora qui pure questi siano dei contenitori vediamo ah, c'è una cartella dentro anche l'altra sempre una cartella il suono non viene pulito perché c'è molta polvere qua sopra poi vediamo cosa c'è nel cassetto molto duro allora ci sono le portamonete molto carine decorate a mano la moneta dentro vediamo qui qui vediamo qui qui vediamo qui e poi questi sembrano di negativi di negativi di fotografi se stiamo facendo anche qualcosa ah si wow, siete pure bene di 93 di 93 di 93 chissà se magari è il figlio o comunque qualche parente del nostro come si vede bene ok la ultima Ok Ok vediamo c'è un altro cassetto qui c'è una cassetta c'è una chiodi carri una cassetta degli attrezzi in questo momento mi trovo di fronte a una grande scaffalatura sia questa che il mobile di prima con tutti quegli oggettini si trovano in una parte della casa che è un solaio e fa veramente molto molto caldo in questo momento però l'illuminazione è gradevole come vi dicevo prima la signora mi ha detto di essere stata in Cina e credo che questi siano alcuni dei souvenir che ha portato da lì vediamo cosa c'è dentro allora a vederlo sembrerebbe come un acquarello della tempera per disegnare per disegnare per disegnare e anche gli altri verde ho tanta voglia di togliere la pellicola naturalmente non la posso fare e anzi già così mi sembra un po' di fare qualcosa un piccolo illegale però vediamo questo è rosso agendo lo vediamo invece in questo contenitore più grande ecco questo conferma che erano proprio dei colori questi qui per per dipingere sono dei pennelli del sonno che fa questa parte poi qui una candela credo sì qua ci sono dei piccoli quadri in questo alto scaffale abbiamo ancora degli oggetti che secondo me vengono sempre dalla scena un po' sporco un po' sporco un po' sporco un po' sporco Anche qui abbiamo altri oggetti di mare E la bambina che urla di sottofondo Ah, e qua c'è anche, qui sulla destra Al bicchiere Non proprio bicchiere perché è un po' carellato però Un contenitore Bello come filtra la luce Poi, qui sulla sinistra Abbiamo ancora altri contenitori Forse qui ci sono altri pennelli Sì Ora come potete vedere Anche dall'illuminazione diversa Ci troviamo in un'altra parte della casa Ah, nella cucina E Ecco Ci sono un po' di Fiori e piante secche E poi questo cosetto che non sa esattamente cosa sia Passando sulla sinistra Ci sono dei pazzoletti di carta Che personalmente trovo bellissimi Sono La carta sembra veramente di qualità Quasi un peccato usarli Proprio belli E morbidi Poi Sto molto scomoda mentre faccio questo video Perché Sopra di me Il soffitto va scendendo E nella parte bassa bassa c'è un frigorifero E tre volte ho sbattuto la testa Per chinarmi a prendere Cioè mi sono chinata E rialzandomi ho sbattuto la testa Poi abbiamo una brocca Qua Qua Te la vende dentro Un'altra brocca più piccola Una grande forma di cuore Carina Una scatola di latta Mi sembra Mi sembra di averlo già detto Ma Io adoro le scatole di latta E ho parecchie a casa Infatti dovrei fare prima o poi un video su quello Altri cazzoletti ancora Altri cazzoletti ancora Anzi uno E infine Un contenitore Quattro Quattro Poi qua c'è in fondo Dove finisce la parte Bassa E in realtà non finisce Continua qua dietro Sto veramente chinata E Buio non si vede comunque C'è solamente Una coperta per terra E Sembra un termos E una pentola là dietro Bisogna stare praticamente inginocchiati Per arrivare a prendere le cose In questa parte Ci sono Tre tendine Dietro le quali ci sono Tazzine E Dei bicchieri E un piatto grande Un altro Sotto Poi Quest'altro Che ha Altri piatti E Ah si ecco questo volevo farvelo vedere Chef Linea cucina d'autore Linea cucina d'autore Che all'inizio pensavo fosse un libro Perché La parte laterale Lo faceva sembrare un libro per bambini Con le pagine stesse E non so se c'era qualcosa al centro all'inizio Comunque Comunque E' un po' incastrato Lascio passare Un po' incastrato E cui E' un po' incastrato Che per il lato è un po' incastrato E' un po' incastrato Capirizzare il fai Итак, che vuoi fare per farvi vedere questa parte sono dovuta salire sul letto questa come potete vedere è una tenda per la finestra e qua sopra c'è questo quadro lungo e sottile questa pure è una parte della casa che volevo farvi vedere è la porta che si trova in cima alle scale ed è decorata a mano non che questo disegno sia fatto secondo me benissimo però il fatto che si trovi dentro una casa sulla porta di una casa lo fa apprezzare molto questo è il comodino vicino al letto anche qui ci sono dei contenitori non so esattamente questo cosa sia solo ora ho notato che questo quadro ha la stessa immagine della porta non riesco a farvelo vedere per intero però vedete che è lo stesso solo che per farlo rientrare dentro hanno disegnato la gamba posteriore è molto più corta wow poi la lampada anche questa è decorata a mano quadro reggioso visto che sia un po' scendere ma io non fumo ora come potete vedere ci troviamo in mezzo alle scale e qui c'era questa zona che volevo farvi vedere secondo me visivamente molto gradevole non posso farvi vedere tutti gli oggetti da vicino uno a uno perché alcuni sono veramente lontani però è provo sia visivamente molto gradevole in questa parte quindi ormone e Ho lasciato il piano di sotto, in una casa del genere non poteva mancare la classica argenteria. Personalmente non sono mai stata amante dei pezzi d'argento, però danno proprio il senso di antico. Ogni parte funziona diversa. E qui alla mia destra, come potete vedere, c'è una porta chiusa, anche con una catena, che non sia la porta che divide questa porzione di villetta che hanno adibito a bed and breakfast del resto della casa. Ora vorrei farvi vedere un mobile. Siamo proprio qui vicino a me. È molto grande e ha una bella chiave. Grazie. 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 Lì sotto c'è anche un cassetto, anche se ho l'impressione che con una mano sarà molto difficile aprirlo Un po' a destra, un po' a sinistra Non è un pancastrato Comunque Penso che dopo mi siderò un po' qui vicino ad usare questo armadio Come ultima cosa, al piano di sopra mi stavo dimenticando di farvi vedere questo piccolo mappamondo che stava in uno dei piani alti della scappalatura Dopo A presto Super non mi piace anche questo è molto impolverato come tutte le cose di questa casa ecco, direi che con questo abbiamo finito e anche se è un po' mosso e magari non qualitativamente uguale in termini di audio e video spero comunque che questo video vi sia piaciuto perché a me è piaciuto molto girarlo fatemi sapere cosa ne pensate ok? ciao